Crescono i contagi di coronavirus in tutta Italia, crescono a Palermo e cresce con forza il mio invito a tutti a rispettare rigorosamente i divieti posti a garanzia della salute propria, dei propri cari di tutti. Ho disposto con numerosi provvedimenti l'inasprimento delle sanzioni ma anche l'applicazione di nuove ipotesi in rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vietando con ordinanza dopo le 21 la vendita di alcolici, la cui uso era consentito soltanto rispetto a normativa all'interno dei locali. Il divieto di consumare alcolici per strada, nelle vie, nei giardini di questa nostra città. Ho disposto l'annullamento di tutte le iniziative che erano previste nei palazzi istituzionali di Villa Niscemi e di Palazzo delle Aquile e ancora ho provveduto, su richiesta anche dei organi tecnici competenti, a sospendere la mezza maratona prevista per domenica prossima. Sono misure rigorose, alle quali potranno seguirne ancora delle altre, perché dobbiamo renderci conto tutti che siamo a rischio di andare incontro ad un picco di contagio e di morti che questa città non si può permettere, come non può permettersi un ritorno a un lockdown definitivo.